bella terzo episodio della serie Whatsapp Jam lui è Beppe Malizia dei Beppe Malizia ritagli acustici la band che abbiamo con Gianni Malizia alla batteria quella che stiamo per fare è una cover di un nostro brano che si intitola come prima, è la versione restiamo a casa e augurandoci e augurandovi che possa tornare tutto come prima o perché no, anche meglio grazie a tutti 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 1, 2, 3, 4 grazie a tutti 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 Passo dopo passo Sono ancora sogni d'aver sognato La stessa vita Tu ti svegli già passato La stessa tutta